Ciao ragazzi e benvenuti con un nuovissimo video di Brazo Crew E oggi siamo ritornati con un nuovissimo video E finalmente l'incontro con le mie figlie dopo 6 mesi lontano da loro Che non è ormai stato più di 15 giorni lontano da loro Quindi immaginate, se avete seguito tutti gli altri video del Brasile in questi mesi Potete capire di cosa sto parlando Se non li avete ancora visti mi raccomando andate nella playlist Brasile 2020 Ma già da questa sera potete trovarmi su Twitch Oggi dalle ore 16 alle 19 sarò su Twitch Poi probabilmente cambierò orario e andrò un po' più tardi Quindi andate nel primo link in descrizione e nel primo commento Che ci sarà il link che vi porterà sul mio canale Vi aspetto numerosi perché oggi analizzeremo tutti i video del Brasile Inizieremo dal primo e vi racconterò un po' tutti gli aneddoti che non ci sono all'interno di quel video Va bene? È partito il progetto, sta piacendo, quindi sono contento E adesso iniziamo a vedere il video Prima di partire devo fare una premessa Il mio primo incontro con Alice, mia figlia più piccola Non è stato nel senso che avevo appena ricevuto il risultato del tampone Però molte volte per essere certi ti dicono di farne un altro dopo due giorni Ma è successo che Valentina stava con Alice Passava sotto casa per prendere una cosa Sono sceso con la mascherina Non ho potuto abbracciarla e baciarla come avrei voluto io Quindi potete vedere un abbraccio molto molto timido diciamo Senza troppe coccole Ma poi c'è stato anche quello dopo Vediamo 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 Eccolo Amore 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 Ciao gucciolina Amore Anche tu Anche te Sei cricciuta Sei cricciuta un sacco Amore Eccolo non posso bagiarla di sofferenza così un'ora un'quietta mi sono ancora tantissima tutto questo da un deserto mesi sette, sette, ho fatto il sette mesi sei, aprile, maggio, giugno luglio, agosto, settembre ti si appanna tutti gli occhiali lei ha preso poi saluta tutti ciao, ciao, ciao 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 vi è piaciuto? a me è un sacco sono super contento super felice adesso andiamo da Veronica con Veronica è stato differente perché sono uscito di casa per fargli una sorpresa lei stava a scuola ho mandato mia madre insieme alla nonna quindi le due nonne a prenderla a scuola sono rimasta a casa sua mi sono nascosto e adesso potete vedere la reaction molto emozionante secondo me sta salendo Veronica ma sei più alto di me sei più alto di me amore amore cucciola non sei altissimo guarda il vaccino mi fa male le spalle è più alta di me è più alta di me guardala fa caldissimo fa caldo si accende qua amore sono sudato quando tu si crepa non sei alzata un po' troppo? che pelo mamma mia ragazzi bellissimo sono contento spero vi sia piaciuto questo video mi raccomando lasciate tanti like iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto presto usciranno altri video anche insieme all'illumina di crew ma nel frattempo andate nel primo link in descrizione e nel primo commento che potete andare a trovarmi su twitch tutti i giorni tranne sabato e domenica al momento nell'informazione potete trovare tutti gli orari vi saluto vi ringrazio vi do un grande grandissimo abbraccio e al prossimo video grazie bella ciao 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 ciao